L'impegno che questi artisti hanno avuto nel preparare queste cartoline. Avete notato la perfezione della pronuncia italiana? Non è facile. Elena porta in gara una canzone dal titolo S.O.S. Il testo dice ovunque abbiamo ferito la terra e inquinato il cielo, il sole è diventato nostro nemico. S.O.S. qui sul pianeta Terra. Per Cipro dirige l'orchestra della RAI il maestro Alexandro Schiruzografu. S.O.S. canta Elena Patroklou. S.O.S. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti